Inizia la sua attività con il teatro danza all'età di 7 anni. A 13 anni è Virginia. La protagonista della sitcom Lola & Virginia in onda su Rai 2. Rai Gulpe e Nickelodeon per la reggia di Alessandro Celli. 28 puntate che la vedono al centro di vicende esilaranti ed originali insieme ad altri. Adolescenti della Einstein High School. In seguito interpreta Katia Ursino in prova c'è ancora prof. 4 firmato da Tiziana Aristarco. Qui Anna Gumpel è l'alunna scappestrata di Veronica Pivetti. Esordisce nel cinema con il documentario Le radici e le ali di Maria Rita Parsi. Vincitore del premio come miglior documentario italiano al Festival internazionale del film di Roma. Figlia dell'antropologa e fotografa Patrizia Giancotti e del giornalista tedesco Udo Gumpel. Collabora come riportera ad alcune trasmissioni dell'emittente tedesca NTV. Del gruppo RTL Television. Si forma al corso di recitazione annuale in lingua tedesca presso la Deutsche Schule di Roma. È tra gli interpreti principali della performance dell'artista Luigi Ontani. Realizzata nel Parco dei Mostri di Bomarzo. Prodotta dal Mart di Rovereto. Per la reggia di Francesco e Federico de Melis.